Perché molte volte, questo è un problema che ancora devo risolvere in qualche modo nella mia squadra attuale, l'attaccante schiaccia fuori perché la pala non era alzata bene. E allora cosa dice? Che nel gioco vuol dire la voglia un po' più alta e più vicina a rete. Il palleggiatore allora, e questo è il gioco di squadra, o meglio non il gioco di squadra, il palleggiatore se gira e il ricevitorio dice ragazzi voglio la pala qua, perché se voi non ricevete bene che io ho la pala qua e devo correre a prenderla, io non posso essere preciso e non se la do come vuole lui, per cui lui schiaccia fuori perché io non se la do come vuole lui, ma io non le do come vuole lui e poi non lo ricevete male. A quel punto i ricevitori si girano a trovare su chi scaricare, ma i ricevitori ricevono la battuta avversaria per cui non possono dire all'avversario batte facile, non fosse io, dicevo bene, lì finisce la catena. Allora la nuova forma, perché io ovviamente questo ho detto una regola molto semplice, ho detto gli schiacciatori non parlano dell'alzata, la risolvono, non la giudica in nessun modo, la risolvono. Adesso ho una nuova battaglia, perché? Perché che fanno gli schiacciatori? Non dicono la voglio più così perché sanno che io sto così, con l'ascia in mano, poi non lo dicono. Cosa fanno? Ogni volta che è buona le dicono perfetta. Non lo dicono, e quella era brutta. Ma se dicono questa è perfetta, vuol dire che l'altra non lo è. E in definitiva parlano dell'alzata, e io mi nervosisco. Continuano a parlare dell'alzata. Sono esperti dell'alzata, gli schiacciatori, sanno tutto dell'alzata. Uno li trova al bar, parlano degli alzatori. Gli schiacciatori. Piccolo problema, loro schiacciano, non alzano. Allora, io voglio schiacciatori che schiacciano bene palloni alzati male. Voglio questi. Perché questi poi, quelli alzati bene, li schiacciano benissimo, non bene. Uno che schiaccia bene palloni alzati male, quelli alzati bene li schiaccia benissimo. Voglio quelli di... Quindi, non ne parliamo, risolviamo. Se la realtà è come è, e non come io voglio che sia, la pala è bassa, mio cervello, che è un computer straordinario, deve aprire tutti i file con il titolo Pala alzata bassa. E in questi file ci sono le soluzioni per ripare alzate basse, che sicuramente non è schiacciarla come se fosse alta. Questo è poco, però sicuro. Ci sono altre soluzioni. Devo usare una di quelle. Se invece, quando la pala è bassa, lui non apre nessun file, oppure apre il file alzata, certo che la soluzione non la trova. Perché sta spendendo tempo, invece di aprire il file, a dire, questa pala è un po' bassa, secondo me. Per cui, in tutto quel tempo è l'imparata. Molti grazie.